Benvenuti al Cineforum del Centro Asteria. Finalmente è la volta di Vermiglio, film rivelazione all'ultimo festival di Venezia. Ha vinto l'One del Argento, ma molti, alcuni, fra cui io, dicono che avrebbe dovuto vincere l'One d'Oro. Secondo film di questa regista giovane, Maura Del Pero, di Bolzano, che ha girato il film più o meno nelle sue zone, perché Vermiglio è il nome dell'ultimo paese della Val di Sole sopra Tonale, in Trentino. Questo è un film di montagna ed è un film, dicono tutti, che ricorda molto l'Albero degli Zoccoli, vero, perché è ambientato in un periodo storico passato, perché è quasi tutto interpretato in lingua originale, con il sottotitolo italiano, in dialetto un po' veneto, un po' lombardo, perché è interpretato da molti, non attori, ma personaggi del luogo. E per tutte queste somiglianze ricorda l'Albero degli Zoccoli, ma è un film modernissimo, molto più moderno, molto più attuale degli altri film che magari hanno vinto più premi al Festival di Venezia. Tra di fatto è questo un film affascinante, che racconta anche con silenzi una storia nostra, italiana, ma contemporanea, anche se ambientata verso la fine della Prima Guerra Mondiale. Complimenti non solo alla regista, ma anche a Tommaso Ragno, che qui è l'interprete del papà, che è un attore bravissimo e che qua si rivela proprio per tutta la sua bravura.